il 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 primo versaggio, qui è qui? vedi, non è frente, oltre da destra, oltre da sinistra, oppure è proprio il centro bella storia! non è calma non è calma non è calma non è calma Stai calento, corri, ogni cosa è difficile che proviamo a fare, no è facile, per notare la tv? No! Stai con la tv? 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 Sì, 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 sì Sì, 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 sì.